Voglio solo sapere chi gli ha sparato Io ho solo sentito dei passi, dei passi di donna No Quel uomo mi ha minacciata Crede che li abbia io quei diamanti. Dice che mi ammazza se non glielo dico. È quel bastardo d'inglese che l'ha ammazzata. Temo però che il suo sospetto sia infondato. Il dottor Matthews è all'ospedale. Mi hanno sparato ieri sera. Poteva essere chiunque. Anche tu. La vuol vendicare. E perché vendicare una puttana impazzita che tenta di ammazzare chi la mantiene? Dio. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.